Il vincitore del TAO Award 2022 è Ludolico Tersigni Noemi, Vaz Madul, Mariela Milani, Professor Domenico Scopelliti, Luca Vini, Maria Rita Grieco, Daniela Colucci, Vittorio Brumotti, da Maison Cilini, ad Alessandro Enriquez, Mario Ricce, Francesca Baccaro per Couture, Valentina Curzi, cuoio di Toscana e dote fin facce. Grazie per essere intervenuti e buona taomoda.